Tutti quelli del Facebook, tutti gli ecchi studenti le fanno lì via. Quelli bravi, quelli meno bravi, quelli buoni, quelli meno buoni, tutti simpatici. E spero di rivederli tutti presto. Bene, ok. Ciao, ciao, un bacio, un abbraccio a tutti. Non è bella, manifesto. Come è già bene questo peso? E se tutte O e A e I, O e N e O, eh? Non importa. Aspetta, metto, bebe. È una B o una D?